Buonasera, buonasera a tutti quanti, e dico buonasera perché siamo andati a passare, no allora due metà di già è sera, a parte che il sole si ammette, non solo, il sole si ammette, non solo si ammette, e allora c'è stato la loro, attenzione attenzione vi voglio presentare prima di tutto il complesso, il complesso che sta suonando si chiama Le Churme, ovvero i churmi, di ciò che me lo voglio anche presentare si chiama Birdscape, che vuol dire praticamente Birdscape in inglese vuol dire, verde vuol dire cap, scape vuol dire uccello, allora Birdscape cap da c, benissimo, questa musica si chiama La Quadrille di Lina Cavalieri, quella cantante ballerina che ha fatto la tramandazione, praticamente, no? E allora ho vinto tutti a ballare perché ci vogliono i cavalieri e le dame, cioè le dame e i dame, benissimo, per ballare questa quadriglia dovete andare tutti quanti, a tutti quanti al centro della sala, i dammi e le dame, il cavaliere, i cavalieri maschi, almeno sopra all'anagrafe, si accavazzassero la femma, vedo che dove dite ti, sulla sala, beh, facciamo due minuti, allora, a mantenere, un momento, vogliamo lo zio Nicola, lo zio Nicola, al centro della sala, venite, lo zio, al centro della sala, beh, non ci facendo un ciclante che io sia feste, è sempre un genere, beh, beh, al centro della sala, ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un girotondo, beh, girotondo, girotondo, con la G, gira, gira, fatto, beh, oh, e ci ci vuole un girotondo, girotondo, e girate, 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 senza farvelo con, girate, nulla a volta, a mandri, signora, signor, signor, che clave sta già, le tere, diciamo, signor, pur tu, agi, agi, rosè, e gettino, al piccolo, giopo, in cima, a girate, girate sempre, adesso, mentre state girando, attenzione, girando, attenzione, attenzione, a frappe, cioè, attenzione, a fra poco, state girando, ma, con tre, via, con tre, cioè, con tre, dall'altra parte, al contrario, mi danno, va per giù, ma, ho capito, spagato con il domenico, non viene la festa, no, attenzione, adesso, ma, per essere più comodi, mettetevi alla fermante, ovvero, il braccio sotto il braccio, ma, attenzione, senza darvelo tosse, più quali, che, oh, benissimo, ma, continuate così, torni lì da una, mo, cattè, eccettino, le recchie, le gomme, vuoi sentire a me, oh, adesso, che siete combinati così, così come state, attenzione, con tre, vai, vai, con tre, ma, ognuno, con la femmina che tiene appresso, si facesse un giro di ballo, lasciate il congresso, fate un giro di ballo, pronti, via, oh, sì, forse è come, sì, forse è, mo, cattè, eccettino, preparatevi, vai, adesso, ballando, ballando, mettetevi in colonna, lasciatevi, mettetevi in colonna, le femmine da una parte e i maschi dall'altra, tenete il tempo musicale per le gambe, per le crescine, praticamente, no, oh, adesso, che state risposto così, i cavalieri, i dammi, praticamente, facessero, un minuicchio, sai che minuicchio, un inchino alle donne, Rosè, Furtù, come stai, grazie a te, mo, cattè, e ci mangio, lo codice, vai, adesso, attenzione, i cavalieri, prendessero la mano alla donna e facessero un arco, fatto, fate l'arco, non l'arco, l'arco, con la C, fate l'arco, ora, mi raccomando, Rosè, Furtù, lì, d'Anna, se c'è, come vuoi, fai vedere, grazie, anche c'è, da tu, non per noi, allora, avete fatto l'arco, ora, la prima coppia, passasse da sotto all'arco, e si andasse a mettere dall'altra parte, avanti la seconda, e così la terza, la quattro, la quattro, la quattro, la sesta, la sette, eccetera, eccetera, vai, vai, lo zio, vai, giù, hai, altro, cazzo, e ci so che ti dite, moccate, tenute, non è venuta, vai, fatto, madonna, non riesco a vedere nulla, allora, avete fatto, mi raccomando, mantenetevi pulito, non ti faccio in tantucci, che c'è? Abbasso le mani, oh, adesso, per fare un altro giro di ballo, senza fare lo peccinente, che, chiede, c'è una pensazione, da fare lo peccinente, ormai è un altro giro tondo, vai, con il giro tondo, ancora, adesso tutti quanti alzazzo dalla mano, non che dall'alto, non che dalla mano, la dalla mano, con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè, we in the four, oh, adesso qualcuno andrasse nel cerchio, non tutto quanto, sapevi che va a succedere il caso, io uso, non tu, adesso il giro tondo, giro tondo, fai con il giro tondo, adesso, we in the four, we in the four, giro di ballo, giro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere è rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere, dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettetevi il disco un'altra volta, e andatevolo a prendere in bacio a Nasa, attenzione, pronti? Vai, continuate voi con il ballo.